Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Giulia Salemi, influencer e ex concorrente del Grande Fratello, ha saputo costruirsi una carriera nel mondo dello spettacolo dopo aver conquistato il cuore del pubblico. La giovane Italo Persiana, nota anche per la sua relazione con l'ex velino Pierpaolo Pretelli, si mostra sempre sorridente e piena di energia, ma pochi sanno che dietro il suo sorriso si nasconde una storia di coraggio e determinazione. La vita di Giulia è stata segnata da una diagnosi di tumore al petto, ricevuta pochi giorni dopo la sua nascita. Tosse, difficoltà respiratorie e altri sintomi avevano allarmato la sua famiglia, che si era trovata catapultata in un vortice di preoccupazione e paura. L'intervento chirurgico che ha seguito è stato lungo e delicato, ma alla fine la notizia è stata positiva. La massa tumorale era benigna e non si è più riformata. Oggi Giulia porta ancora con sé la cicatrice di quell'esperienza, un segno tangibile della sua battaglia per la vita. Nonostante le imperfezioni fisiche, la giovane influencer ha scelto di non ricorrere alla chirurgia estetica, preferendo accettare e valorizzare la sua unicità. Quella cicatrice, diversa dal suo seno, le ricorda ogni giorno quanto sia stata forte e determinata nel superare un momento così difficile. La storia di Giulia Salemi è un esempio di resilienza e forza d'animo, un monito a non arrendersi di fronte alle avversità e a lottare sempre per ciò in cui si crede. La giovane influencer ha dimostrato che anche dietro un sorriso luminoso si nasconde una storia di coraggio e determinazione che merita di più.